L'anteprima di Toscana si inaugura a Fortezza da Basso, quella che è la vetrina della gran parte del vino toscano. Cosa rappresenta per il Consorzio del Chianti Vino? Innanzitutto è già da alcuni anni che noi facciamo le nostre anteprima. Ma quello che c'è quest'anno è che insieme all'intera denominazione del Chianti ci sono anche le sottozone con i loro consorsi, le sottozone del Chianti che sono Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Frentini e Chianti Rufina. Quindi questo diventa per noi anche un valore aggiunto alla nostra presentazione. La nostra presentazione diventa un modo anche più divertente e più semplice per chi viene a degustare in anteprima le nostre denominazioni perché le trova tutte insieme e quindi tutto diventa molto più semplice, più facile e più istruttivo anche se vogliamo. E siete riusciti ad aggregare anche altre realtà del vino toscano? Sì, questo è stato un merito della regione che in varie riunioni è riuscita a riunire anche quelli che sono, chiamiamoli consorsi minori, ma non per fama perché sicuramente sono anche altrettanti consorsi molto conosciuti, però diciamo più piccoli come quantità. Sono oggi qui presenti con i loro banchi, con i loro consorsi e quindi con i loro prodotti e anche questo è un altro passo avanti, credo per l'intera Toscana Vita e Vinicola perché poter essere presenti tutti insieme in un unico luogo e dare la possibilità agli appassionati, alla stampa, ai buyer di poter far assaggiare i vari vini della regione toscana che sono uno meglio degli altri, sicuramente è un vantaggio per tutti. E il vino Chianti oggi come lo possiamo sintetizzare in termini di numeri? Il vino Chianti oggi rappresenta circa 16 mila ettari di vigneto, rappresenta 105 milioni di bottiglie, rappresenta 800 mila ettolitri di vino, quindi una grossa denominazione, una denominazione che comunque vive in un mondo globalizzato, quindi deve confrontarsi con i vini di tutto il mondo, con il mercato di tutto il mondo e deve quindi essere sempre pronto a migliorarsi e essere sempre più agguerrito sui mercati. E quindi iniziative all'estero? Iniziative all'estero le stiamo facendo, abbiamo fatto già Tokyo, Hong Kong, Seoul, adesso tra poco andremo a Provine, poi dopo a Dusseldorf, poi andiamo a New York, poi andiamo a San Paolo in Brasile alla fiera, poi andiamo alla fiera di Canton, poi andiamo a San Pietroburgo, in tutte queste manifestazioni, fiere che noi facciamo, oltre a presentare il vino cerchiamo sempre di abbinare il nostro Chianti alla cucina locale, dove ci troviamo, proprio per dimostrare la versatilità del Chianti e il facile abbinamento del Chianti a vari tipi di cibi di tutto il mondo. E per quanto riguarda la fattura del vino Chianti, ci sono in vista qualche modifica dei disciplinari, qualche aggiustamento? Attualmente non abbiamo in previsione modifiche ulteriori, noi abbiamo già modificato due anni fa il nostro disciplinare che adesso sta facendo il suo corso, il suo iter a livello ministeriale e quindi stiamo aspettando le risposte, diciamo che la modifica forse più importante che abbiamo fatto è stata quella di aumentare il numero di viti per ettaro e conseguentemente abbiamo aumentato la produzione per ettaro. Questo, diciamo così, inizialmente poteva essere preso come un aumento to pur della produzione, ma poi quando siamo arrivati a spiegare che c'è anche un aumento del numero di viti, allora la cosa poi è stata ben digerita e in questo modo comunque a prescindere dai numeri noi passiamo da una produzione che oggi è intorno ai 90 quintali di uva per ettaro, se però poi andiamo a calcolare quello che sono i vecchi impianti eccetera, quindi probabilmente si scende anche intorno ai 80 quintali di uva per ettaro mediamente, a una produzione che va a 110 quintali di uva per ettaro. Grazie a tutti!